La Samb torna al successo dopo oltre un mese superando per 2-1 un buon Riccione. L'ultima vittoria al Riviera risale alla gara interna contro il Tivoli del 17 settembre. I Rosso-Blu hanno sofferto per avere ragione dei Romagnoli che hanno disputato la loro onesta partita. Lauro torna al 4-3-3 rinforzando il centrocampo con l'inserimento di Paolini in mediana. È Battista a lasciargli spazio tra gli over al fianco di Arrigoni e Barberini. Sbardella rientra al centro della difesa al posto di Pezzola con Cardoni, Tomassini e Alessandro in avanti. Il primo quarto d'ora se ne va senza particolari sussulti con le due squadre che lottano a centrocampo con un maggiore possesso palla da parte della Samb. Al ventesimo occasionissima Riccione, Picchieri trova un Varco sulla destra, entra in aria con Tigani che anticipa Sbardella ma è bravissimo Cocco a respingergli la conclusione da due passi. Al 35esimo la Samb passa in vantaggio, Zoboletti dalla destra in mezzo, Barberini di testa indirizza verso la porta con Tomassini che in spaccata anticipa il diretto marcatore e di punta mette dentro. Quinto centro stagionale in sette gare per il bomber rosso-blu. Al 44esimo il Riccione pareggia, punizione di Tonelli dalla tre quarti da posizione decentrata, la palla salta difesa ed attaccanti con Cocco che si lascia sorprendere dalla parabola con la sfera che finisce in fondo al sacco. Si va a riposo sull'1-1, al quarto della ripresa è Tomassini ad impegnare a terra Servalli dopo uno scambio con Alessandro. Al decimo Samb di nuovo vicino al vantaggio e sempre con Tomassini, la cui conclusione in diagonale colpisce il palo a portiere battuto. Alla mezz'ora i rosso-blu raddoppiano due minuti prima dentro Battista per Alessandro e Martiniello per Tomassini e proprio i due nuovi entrati sono i protagonisti del gol del 2-1. Battista dalla sinistra disegna una parabola a centro-aria con Martiniello che di testa anticipa Servalli in uscita e mette dentro. Il Riccione si getta in avanti con Riolfo, ex Vispesaro e Fermana, che schiera tutto il suo potenziale offensivo con la difesa della Samb che, soffrendo più del dovuto, regge l'urto. Tre punti d'oro per i rosso-blu che riassaporano la leadership. Grazie! Grazie!